Ebbene ragazzi bentornati in questo nuovissimo video di salva il mondo ragazzi in poche parole è successo che io sono andato in missione e ho trovato questo qua Volevo spiegarvi che cosa è successo ragazzi stavamo giocando a dropparci le armi ovviamente io non lo conoscevo Questo ragazzo è stato uno così incontrato nella missione insomma uno sconosciuto Stavamo droppando le armi sinché dopo che io non gliele droppo più A un certo punto io ero da una parte facendo finta di essere assente A un certo punto li droppa e io corro e gli rubo l'arma Niente ragazzi questo che è successo nel video ve l'ho spiegato Mi raccomando ragazzi guardate il video sia nella fine Lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto Commentate, attivate la campanella per non perdere i prossimi contenuti di salva il mondo Battle Royale, Minecraft, GTA V, online e altri giochi Niente ragazzi da bastere tutto, buona visione Maicro donna mascar! Maicro donna mascar s'il te plaît! Maicro donna mascar! 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 la stella S'il te plait Bastard Tu vas la reprende Donne ma Scar Bastard Scar Scar Ay mi Yes